Questa avvertenza riguarda i migliaia di lavoratori abruzzesi, su Pescara abbiamo calcolato più o meno che si tratta di 3.600 persone che avrebbero diritto, che secondo noi hanno diritto a recuperare l'IRP indebitamente versata all'Agenzia delle Entrate sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo. C'è una sentenza della Corte Europea che ha dato ragione ai lavoratori e ha condannato l'Italia ad adeguarsi e a risarcire praticamente tutte le imposte che i lavoratori avevano versato. Stiamo parlando degli uomini che hanno percepito queste somme dal 1 gennaio del 1998 al 3 luglio del 2006 e avevano in quell'epoca un'età compresa tra i 50 e i 55 anni. Stiamo parlando appunto di migliaia di lavoratori, potete immaginare l'avvertenza a livello nazionale che entità economica potrebbe assumere e questo è il motivo per cui l'Agenzia delle Entrate nel momento in cui si è adeguata la sentenza della Corte Europea ma perché altro non poteva fare ha in realtà poi opposto la decadenza, quindi facendo decorrere secondo quelli che sono i suoi criteri il termine di decadenza per la presentazione della domanda dei 48 mesi da quando i lavoratori avevano percepito le somme. Ora chiaramente vi ho detto che sto parlando di un periodo che va dal 1998 al 2006, se la sentenza è del 2008 è chiaro come dire si vi spetta perché vi spetta, l'ha detto l'Italia, l'ha detto la Corte Europea però di fatto vi rendo inesigibile questo diritto. Noi chiediamo a tutti i lavoratori di rivolgersi presso le sedi della CGL a Pescara e comunque in Abruzzo è mostrando semplicemente l'ultima busta paga in cui hanno preso l'incentivo all'Esodo e noi li accompagneremo con i nostri legali fino alla Cassazione, siamo tra l'altro appoggiati comunque dalla consulta della CGL nazionale perché andiamo a colpire sempre le stesse classi.